il seguito a me davo di senta tu la sistema che è sopra e la scaglia la saluta oi posso scegliere anche voi e cosa ci stanno a dire la scaglia il gesso solo buona manzola buona manzola di moglie ma se stai che ce la so fregata no questo è un almace non è lui è un almace e fammi il pannello deve rimanere un po' lì no ancora dai metti ancora un po' liquido vuol dire che si va pure la pezza metti ancora no perché io l'ho fatto con la carta con la carta del questo sistema l'ho fatto metti metti falla 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 impregnare bene no 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 culente si adesso culente è chiaro no 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 Grazie.